La sinistra, se no si prende il power, è il nostro messo. Ciao ragazzi, come state? Io sono stati messo. Ciao Giuseppe. Come era? Per voi, nessuno ha corso. Noi ci proviamo, poi sarà lui. Noi, io sono stati messo. Ciao, è forte. Bravissimo. Mi dispiace questa foto a tutti. No, non vediamo. Sei Roberto. Mi facciamo una foto. Mi paremmo con la foto.